Andriolo che ha seguito tra l'altro in questo momento il collegamento eccolo qua Paolo, fra poco ci colleghiamo con il nostro Paolo Andriolo che però purtroppo lo stiamo beccando, lo leviamo dalla regia se no lo prenderanno in giro, scusate, è un momento di distrazione anche i nostri inviati che lavorano tantissimo, se lo avvertiamo per favore Allora che cosa è successo? Che Bruckner viene sospettato dalla polizia tedesca